Il primo settembre di 687 anni fa fu posata la prima pietra della creazione di Terra Nuova Bracciolini, per volere della Repubblica Fiorentina, che decise di costruire un nuovo insediamento fortificato in Val d'Arno. Il nome che fu dato a Terra Nuova inizialmente fu Castel Santa Maria, una storia che dal 2022 l'amministrazione Chienni ha deciso di celebrare con una giornata dedicata. Il primo settembre si partirà dalle 17. Inizieremo alle 17 in Sala del Consiglio con l'inaugurazione della mostra sulle opere letterarie di Padre Bacci, un personaggio molto importante per la città di Terra Nuova. A seguire il professor Lorenzo Tanzini dell'Accademia Valdarnese del Poggio, che ringraziamo per la collaborazione, ci parlerà appunto delle sue opere e della fondazione della città. La mostra resterà poi aperta per tutto il mese di settembre. A seguire ci sarà una scena in piazza, una scena contadina che l'amministrazione ha organizzato insieme ad Arcadia. Sarà anche l'occasione per parlare di inclusione e di come appunto questa associazione opera all'interno della nostra città. La cena in piazza della Repubblica ha lo scopo di far rivivere le origini contadine del paese con balli e stornelli della tradizione toscana, oltre che a supportare un'associazione Arcadia Onlus presente nel comune fin dal 2009. Il tema importante è l'inclusione quest'anno, quindi quale migliore occasione per collaborare con il comune è la realizzazione della scena. Arcadia si occupa da sempre di inclusione, a favore delle persone con disabilità, quindi sarà una serata che ci permetterà di conoscere, di far conoscere tutte le attività che Arcadia fa nel territorio e sarà una serata per stare insieme.